Non odi tutto questo. Odio cosa? I silenzi che emettono disagio. Perché sentiamo la necessità di chiacchierare di puttanate per sentirsi più a nostro agio? Non lo so, è un'ottima domanda. Solo allora sai di aver trovato qualcuno lì davvero speciale. Quando puoi chiudere quella cazzo di bocca per un momento e condividere il silenzio in santa pace? Beh, non credo siamo arrivati già a questo, ma non te la prenderci, conosciamo appena. Facciamo una cosa. Io adesso vado in bagno ad incibriarmi il naso. Tu resti seduto. E pensi a qualcosa da dire? Sarà fatto.